Torna lo spazio Data News dedicato a tutto lo sport del weekend. Murigno aspetta il Lecce all'Olimpico, nessuno a Roma può dimenticare il precedente a Massa Scudetto. Fiorentina alla ricerca di conferme contro il fuoriclasse di Maurizio Sarri, proiettati in vetta. Posticipo di Premier League, il Nottingham ospita l'Aston Villa per tornare a vincere. Stadio Olimpico, domenica la Roma di Murigno prova a sfatare il tabulecce. L'approfondimento di Olibet TV propone la Roma vincente con il 70% di probabilità. Fiorentina e Lazio negli ultimi 5 precedenti in Toscana hanno segnato quasi 3 gol di media a partita e per Olibet TV più di due reti segnate nella gara sono previste con una probabilità pari al 50%. E chiudiamo con il posticipo di Premier League. Olibet TV sottolinea che i padroni di casa non vincono dalla seconda giornata di campionato. Aston Villa favorito con una probabilità superiore al 40%. E su Olibet TV trovate tutti gli approfondimenti statistici sugli eventi sportivi del weekend e noi ci rivediamo al prossimo appuntamento con Data New.